bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo con un video abbastanza speciale ragazzi abbiamo riflettuto a lungo per fare questo video abbiamo ideato nuove tecniche e finalmente ci siamo riusciti ragazzi siamo qui con un 2Player OnePad come avete letto dal titolo magicamente ora in alto a destra comparirà la visuale della fotocamera con il joystick si vede? attenzione si, penso si veda se non si vedete visto ok come vedete questa è la mano mia questo sono io come vedete io mi occuperò dell'emisfero del movimento quindi l'emisfero sinistro mentre Alec si occuperà della parte destra ragazzi giochiamo in veterano se no è un casino noi siamo abituati al genere no no, death match magari facciamo due partite la classe che useremo è questa quindi spulcate ok aspettiamo partita è già cominciata ma non ci facevamo proprio l'emisfero vertico mamma mia questa mappa l'audio però vabbè ci proviamo ragazzi penso faremo un paio di partite così giusto a scazzo ecco la classe è questa spulcatevela un attimo e cominciamo dai mamma vai vai corri come vedete non siamo molto coordinati oh no devo mirare dimmi te se mirare sbam oddio che coordinazione ragazzi no quando ne vedi uno aspetta aspetta fermo piano 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 no ma perché hai fatto il drop siamo davanti alla scatola ok ragazzi si mette da due abbastanza buona vai 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 tanto qua c'è nessuno vai 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 mira mira no cazzo vai frata vai 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 avanti vai avanti 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 fermo fermo mira vai avanti mira vai avanti mira vai avanti mira vai avanti ragazzi io sono concentratissimo perché io sono già una pippa da solo mira vai avanti eccolo mira Cristo e io ho mirato cioè ragazzi io sono già una pippa da solo figuratevi no curatevi con mezzo joycee ecco ragazzi questi vai avanti che ti fermi qui e che non so ma stai zitto ma che non mi vado in mutaggio oh oh buono no niente yes curati con la sabbietta signora nooo si è cito da lì ragazzi intanto quello ce li può chiedersi non so se sente ma speriamo oh e mutalo un po' sto facciamo mutalo sono tre questo mi sa che si sta a fare un pippone oh nooo quattro cinque il nostro obiettivo è di non andare in negativo ragazzi attento c'è uno spam signori mamma mia che coordinazione mamma mia c'è l'uav e comunque io c'ho occhio no 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 grandi aspetta aspetta ricarica nooo ragazzi io ce l'ho invisibile quindi siamo un attimo facilitato ha finito lo avvi fermo 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 vai amanti vai amanti intanto lag a pogco No, non è che lagga, fermi mira, l'ho vista all'ultimo Eh io pure, quando mi ha ammazzato Vai avanti vai avanti vai avanti, isoliamo le munizioni, vai avanti Attenso ce n'è uno counter di Eh si è detto che ti ho occupito il counter Guarda uno sbuca Cassa qua dietro gli uomini Ok, aspetta vai, è sceso sto imbecille Mira, fermo mira La concentrazione ragazzi mi sta piangendo Esci 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 Oh, via, no Ragazzi ce ne stanno un botto qua No, il fumogeno via, via, via No, 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 esplodiamo, esplodiamo Ok, no, 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 fermo, fermo Spostati Bono, ce ne stanno atto che stanno No, mamma mia signori Le skill epiche, 8-8, vai 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 Ragazzi mi sto fomentando Questo video sta uscendo meglio Di quello che pensavamo Non lo fanno altro punto No, ce ne è una signora Sali qua, sali, sali, sali Sbrile Mira Ok, va avanti Esci mira Nooo Non ho fatto abbassare a me Ma intanto sei sicuro che sei No Oddio Mira Mira Ma avanti esce mira Eccolo Nooo Da dietro Sta merda No, il visatte Spremmo che è l'amico Ti pare che lo fai l'amico? Sì Bello signori Anche un guardia l'amico Oh, ora c'è me Due puse a te Escono da qua Allora stanno qua dietro Escono da qua Mira Impedito Ce n'è un altro Asposta, occhio Esce a sinistra Bono Signori Nooo Stavano Ricarica, ricarica Mamma mia Sto troppo a fomentare Quanto stavamo? 11-11 7-7 Mira Vai vai che esci Mira, mira, mira No Stava lisciato Ne esce un altro Ne esce un altro Te l'ho detto Te l'ho detto Grande Esce da qua Grande signori Ci stiamo troppo fomentando qui In casa Alec Ci stiamo troppo fomentando No, qua è lo spawn nostro Vai avanti, vai avanti No, finito il risetto Oh Boh Bomba ragazzi Il dispositivo 13-11 Allora, 13-11 Il nostro primo Duplayer Onepad Guarda se stiamo a registrare Intanto Se non stiamo a registrare Mi buttate sotto Bene ragazzi Perfetto Bene, bene, bene Anche perché Daniela Questo stiamo a fare Tutto il live Quindi Il live Uno È abbastanza concentrato E rischia Di sparare minchiate Quindi Speriamo Intanto Intanto Rilasciamoci un attimo Che c'è tutto Vivo Sono un attimo Un cliccato Soprattutto Perché le mani sudate Quindi Mi ha lasciato Su la panza Signori Come vedete Che cazzo Ci sarà un bel taglio Ok signori Comincia un'altra partita Abbiamo solo 16 minuti A disposizione Non è cazzarola Allora Siccome abbiamo già avuto Dei problemi A caricare video lunghi Su Per esempio Qualtrò che Devil May Cry YouTube si è in culo La sabbia Perché io questo Lo devo caricare Se non carico Insomma Questo non so Se riusciremo a farlo Tutto quanto A caricarlo Tutto quanto Al massimo Lo divideremo In due parti Come abbiamo fatto Con Devil May Cry Fateci sapere Se volete Tipo Andiamo su Andiamo su Tutte mignote Vai 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 Esci fuori Da finestra Mira Ok andiamo giù Ok Buttaci Mira 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 Guarda che ce ne sta uno Oddio L'MSMC Buggato Ci sta nessuno Ok non c'è Non lo so Non lo so Non lo so Destra Sinistra Scusa Mira esci Mira Ok Ci sta nessuno Manco qua Porco No Mamma mia ho flashato Un nemico Quello era Un nemico No Come cazzo Rimaniamo un attimo Qui allo spa Era un nemico Ok Come l'altra partita Spendiamo di andare In positivo Un butta da sinistra Devo stanna questo C'è sta Non è vero Non c'è più Piano 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 Non mira Non scattava Vai piano Mira Io intanto do istruzioni Ragazzi Vai 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 lo spawn Non lo spawn Mira Sponchi 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 Carriket esce da qua Forse Nooo Gaspone di merda Intanto vediamo Siamo 1-2 1-2 Non va bene Mamma mia La prima partita La prima partita è stata abbastanza Fomentosa Esci piano Esci piano Esci piano 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 Pianissimo Pianissimo Non c'è Non c'è Ragazzi Sii Cioè ragazzi Sembriamo una sola Persona No No C'è un culo Guarda Mentre ne esce No No Entra qua Non c'è qua Sì Questa esce da qua Ma lo sento Non c'è Ah no E' sponchuto La gente Ha ancora usando Glamour Mamma mia Però A parte tutto Esci Grande Come ho detto siamo sempre la stessa tattica Perché Non amico Non ce ne ho fregato in meno Conta come il nostro uccisione a positivo Mamma Crivio Guarda ce n'è uno la sua Come sa l'ho visto l'ho flesciato Ce l'hai le granate? No Non hai le granate? No Centrix Non c'è il castano C4 No c'è niente Guarda se c'ho tattici Non ho tattici Non abbiamo niente questo Vai 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 Spawn Merda No Sei solo una merda Purtroppo abbiamo invaso No 3-5 rega Mira là Sta lì sta lì Aspetta facciamo un giro da qua Vai 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 Mira No E Sono già dal nemico All'amico ragazzi Veniamo a sapere questo Sto fiota è nata e bendicata Io giù l'ho visto il nemico Ma ce ne sbattiamo le palle Mira Ce n'è uno lì Mira 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 Occhio che se prendi la minico Sta botta c'è spell No era lì Ragazzi questa partita sta facendo cagare Siamo 3-6 Scusami Eccolo sta qua Entra mira Ok Buono No no Grandissimo Aspetta ferma 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 Calma Sono uscita qua Vai avanti Vai avanti Signori No Se riusciamo a prendere Oddio intanto abbiamo recuperato Signori Quanto sono 7 7 Simila No Oddio L'ho ferito L'ho ferito L'ho ferito L'ho ferito Vai vai Entra 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 Mira Salva l'ho visto Hai visto male No ce l'hanno inculato No vai 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 Inculato maledettamente Con la ghiaia Oh mirala mirala No ce n'è uno là Tialo Grande Mamma mia Le camera sto troppo a fomentare Ci abbiamo ancora No Amico 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 Si sa Ovvi dei minuti Dalla telecamera Mamma mia L'hanno infinito Adesso abbiamo 4 tacche 4 tacche Si è mai visto 4 tacche di connessione Sono in live Ragazzi Non era No a scureggia Era il telefono di Fracchia Intanto Vibriano i telefoni Non la prendete male Con i doppi sensi Lo so Benissimo Bisante Ragazzi Ce ne vengono dentro Ce ne vengono dentro Ce ne vengono dentro Mira Mira Ma porca miseria No signori Iper patate No No che cazzo Spanchillano Le merde E l'ho preso Con l'ultimo colpo Signori A sinistra Butta Regione 1 Sicuramente Non è vero Sto di cazzare Non è vero Stanno tutti là Stanno tutti là Stanno tutti là Esci 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 mirando Doppia 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 ragazzi Doppia ragazzi Intanto Quando Quando Buttate qua Mira Quando purtroppo Abbedranno Rimandiamo feriti O purtroppo Per fortuna Ogni che Facciamo Ci dà la Menda Io ho sopravvissuto Fermate Fermate Che Appunto Da punta Esperienza Quindi Ci hanno curato La sabbia Non è Mancano 5 Killer Regà Vediamo che Potremmo fare Ok No Spunta Continua Stando a Dentro No 12 12 Regà Camperano Sì No Stambo No Lo Spronzonico Bene Bene ragazzi Allora Non possiamo andare In negativo Quindi 12 12 E un video Di un quarto D'ora Perfetto Quindi ragazzi Pensiamo che Il video Possa finire qui Se vi è piaciuto Lasciate un like Se volete che Facciamo Altri video Così O anche Lo stesso tipo Di video Fatecilo sapere E Al prossimo video Once more I'll say Goodbye To you Things happen But we don't Really know Why If it's supposed To be like This Why do To be like To be like Grazie a tutti.